Via Reggio, carnavalo di Via Reggio 2019, oggi terzo agosto mascherato in salotto. Rivedremo una sintesi lunga, però fatti i carri in salotto, di giorno. Come avverrà questo providore, chi lo fa muover così, vorrei capire là dietro cosa c'è. Oh mascherina, che ti importa, andare a fondo d'ogni cosa. Il terzo corso è iniziato, buon divertimento. Il terzo corso mascherato si apre con Adelante, prima categoria della compagnia del carnevale di Le Bigger e Roger. Il terzo corso è iniziato. Il terzo corso è iniziato. Adelante, adelante. 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 The winner is a chi vince non sa cosa si perde, seconda categoria di Edoardo c'è ragione. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Il padrone, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. La Zattera, seconda categoria di Franco Malfatti. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, prima categoria di Carlo Lombardi. i freschi. L'ultima Biancaneve, prima categoria di Jacopo Allegrucci. 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 Grazie a tutti. Prigioni, seconda categoria di Luciano Temei. Grazie a tutti. L'inganno della sirena, prima categoria di Luigi Bonetti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.